La parola di oggi è paura, paura nel senso di paura, perché Gesù dice a un certo punto nel Vangelo non abbiate paura, invece quelli erano impauriti, ma vedendo che il vento era forte si impauri, ma Gesù dice coraggio sono io, non abbiate paura, allora questa paura evidentemente è di fronte a una presenza, perché coraggio sono io, non abbiate paura, ma lui si impaurisce. Quindi non è una paura nel senso di un pericolo? Di un pericolo o della paura di fronte all'ignoto, è la paura di fronte a una presenza che si impone, potremmo dire, ed è molto caratteristico il fatto che... Quindi è quello che si chiama il timore di Dio? E' quello che si chiama il timore di Dio, ultimamente, cioè è il sentimento di timoroso rispetto che c'è di fronte alla presenza ineffabile di Dio che si rende percepibile. Quindi Gesù non era tanto gentile, cioè si faceva paura, insomma. Sì, ma si faceva paura nel senso che di fronte al mistero che si rivela, l'uomo si rende conto della propria inadeguatezza. C'è da dire che stava camminando sull'acqua, se non ho capito, non mi ricordo. L'uomo è inadeguato di fronte al mistero, quindi quando il mistero si rivela è la scena di Elia, no? Elia che prima c'è il terremoto, prima c'è il fuoco, poi c'è il vento impetuoso e poi Elia però capisce di essere arrivato alla presenza di Dio quando c'è un venticello, un sussurro di un... In realtà è la voce di un silenzio leggero. Vedi, è gentile, cioè... Sì, ma sai cosa dice dopo Dio a Elia? Ti ricordi cosa dice dopo Dio a Elia? Dunque, gli dice di andare a instigare un colpo di stato a Giuda in Israele causando il rovesciamento e la morte di tutti i membri della Casa Reale e il conseguente massacro di tutti i sacerdoti di Baal, no? E poi gli dice di provocare la caduta di un altro re e di provocare una guerra. Oh! Quindi, sono... No, beh, ma più gentile non... Non mi sembra che sia l'esempio della gentilezza e della... Ma perché allora viene usata questa immagine del vento? Cosa vuol dire? Eh, perché? Perché Dio si fa precedere da tutti questi fenomeni naturali. Però siccome il problema era il contrasto fra lui e il Dio della tempesta, cioè Baal, Dio sottolinea il fatto che la tempesta, il fuoco, il vento, il terremoto sono sotto il suo controllo ma lui non è il Dio della tempesta, non è il Dio del vento, non è il Dio del fuoco ma è un Dio che li trascende tutti e quindi si manifesta in modo molto più misterioso ma non per questo meno terribile, eh? Non è perché per questo... Cioè, da un certo punto di vista il vento e il fuoco si possono controllare ma questa presenza così misteriosa è ancora più inquietante da un certo punto di vista perché... Cioè, a Elia gli si sono rizzati i peli sulla testa... Eh, beh, certo, cioè... Sulla testa quando ha sentito questo silenzio strano... E la sproporzione di fronte al mistero che si rivela, ma che rimane mistero mentre il vento e il fuoco sono elementi conosciuti sappiamo che il vento, sappiamo che il fuoco magari sono terribili però sappiamo che cos'è e qui invece si rivela, c'è, è presente, da anche degli ordini piuttosto inquietanti ma rimane un mistero svelandosi però si vela anche perché non dice che cos'è non dice che cos'è ... è Grazie a tutti.